Vorrei un percorso specifico all'interno del mio centro di senologia. Lo vorrei perché vorrei sentirmi guidata ed essere sicura di andare nella giusta direzione. No, ora non è così. Ora se ho un problema non so chi è lo specialista che può risolverlo né dove trovarlo. Però ho bisogno di capire se devo preoccuparmi o no. Le donne con tumore al seno metastatico hanno diritto a un percorso specifico nel centro di senologia. Hanno bisogno di essere guidate e di avere i punti di riferimento chiari.